Grazie a tutti. La roccia dove sono scivolato era così e non riuscivo più a risalire, per cui mi sono fermato lì, aspettando gli eventi, ma non so neppure io cosa aspettavo, se il nostro signore che venisse a prenderli o qualcun altro di animo buono. Ha temuto il peggio? Sì, sì. Stanotte l'ho passata male, perché poi tra l'altro ha piovuto, un freddo. Pensavo di non passare la notte, perché lampi, tuoni… Verso l'una ha cominciato la parte. Sì, sì. Qui, dico, qui. È finita adesso. Ma quando ha sentito che stavano arrivando i soccorsi… Eh, allora è stato un momento di liberazione. Poteva essere stata una ritorzione dei satanisti per un'omelia? Oh, no. Intanto non mi sono mai occupato di satanisti, né di Satana. È un argomento che proprio non tratto perché tratto di Gesù Cristo, mi piace di più. No, no. Non ci sarebbe fondamento. Non ho mai avuto a che fare con loro, ecco. No, è solo la mia intelligenza. E spero di aver imparato. Passeggiate più tranquille la prossima volta. Più tranquille. E poi percorsi conosciuti e riconosciuti.